Allora, un quadro che ultimamente mi piace, perché è recente come quadro, l'ho appena fatto, finito tre anni fa, i tulipani e la gente, sì, l'ho intitolato proprio così, perché quando era stato a Cornaredo la prima volta c'era più gente in quel campo di tulipani che in realtà i fiori. Era una cosa immensa vedere tutta questa gente baciata per terra che raccoglieva i tulipani, ma il primo colpo d'occhio, la prima veduta della mia mente che favilla nel mio solco umano è di vedere tutta questa gente acco baciata per terra che raccoglieva i tulipani. Estentivamente mi è venuto il desiderio di fare un quadro, questo quadro è fatto ad olio, 50x70 la dimensione, è predominante il colore rosso, però è bello che io non ho fatto un prato olandese come di solito fanno in Olanda, ho inserito queste persone qua nel campo dei tulipani con un flash che rimane come un colpo di fulmine a vedere questa erogazione di persone, questa divulgazione che ha avuto questo campo a portare tutte queste persone ad accogliere i rispettivi tulipani. E mi è piaciuto col Naredo e sono ritornato tre volte, però la prima volta ho fatto il quadro perché il pittore coglie l'istante del momento, come gli impressionisti non ripetono mai un quadro in tempo successivo, ma colgono l'impressione del momento, come tutti del passato, la luce e l'ispirazione che ti dà l'animo del quadro al momento, io non sarei in grado di fare una coppia della coppia dei miei quadri, ne basta uno, uno, è tale in quanto vive il momento che io l'ho vissuto questo quadro, questo momento che mi è piaciuto a essere in questo bel prato a raccogliere i tulipani.